Ben entrati nella nostra officina, oggi siamo qui con Audi S1, oggi andremo a eseguire un lavoro molto importante che spesso è sottovalutato. Praticamente andremo a fare il tagliando del differenziale Aldex, il nostro differenziale Aldex su questa vettura ripartisce la trazione da davanti e dietro grazie a questa pompetta. Questa pompetta qui è quella che permette il carico dell'olio, quindi dentro il nostro differenziale avremo un po' di olio che verrà pompato da questo sistema qua per andare a chiudere il pacchetto frizioni e andare a ripartire la trazione. Il problema di questo differenziale è che tende a sporcarsi molto, quindi adesso l'abbiamo tirata giù per andare a smontare sia la pompetta stessa che il filtrino che sta qua dentro. Questo qui è la prima generazione, quindi ha solo questo filtrino qua. Abbiamo già scaricato ovviamente l'olio vecchio e andremo poi a caricare successivamente l'olio nuovo dopo la pulizia. Grazie a tutti! Come potete vedere questo qui che stiamo toccando col dito è tutto il rimasuglio della polvere delle frizioni dell'Aldex. Adesso andremo a pulire il tutto e richiudere. Ciao! Ciao! Ciao!